A me voi sorelle, fratelli e amici Il pre-seremono di questo Dio Giorno Domenica, ottobre 20 2013, continuo con le mie opinioni degli italiani migliori E' o che hanno raggiunto il meglio che sono italiani Altro verso la storia, inizio con i pappi Secondo continuo con Galileo Terzo è Cristoforo Colombo Quattro è dottorato di ricerca in scienza Da Castellano E naturalmente in Castellano Quinto è Michelangelo Sei è Leonardo da Vinci Siete è Giuseppe Garabaldi E ripetere riguardo a ciò che a mio parere E tutti dovrebbero essere consapevoli di Se ho avuto il mio desiderio Vorrei solo non appena Cristo è scomparso Dopo che è stato uscidato dagli ebrei E presso l'entrata principale dei Hoover Building Ogni paio di anni E ripetere ciò che ha detto presso l'ingresso principale del Tempio Siete ipocriti Perché questo pregatore è dell'opinione che le Hooveriste è in letto con sionisti E esso aspira il comandamento di Dio Cristo e l'umanità Se c'è sono diavolo lavatori su questa terra E il Hooveriste è il Hooverism Un morovido principale delle Hooveriste sono immediatamente segreto E il pubblico più dritto, immorale, promotale dei pazzi occhi Il mondo e in particolare gli Stati Uniti Deve rilassare questa vera realtà Dalle morale e pazze di Hooverism Dalli alti, ideali e buoni amici Hanno i voli, sorelli, fratelli e amici Il sermone questo Dio del giorno, domenica e del vino miracolo Provo 1 di 40 Consecutivamente Numero 1 Gesù Cristo trasforma l'acqua in vino Giurisce un nobile figlio Chiura un demoniaco nella sinagoga Giurisce un nobile figlio Giurisce un nobile figlio Chiura un nobile figlio Primo progetto del pesce Nomina i suoi discepoli Deterghe un lebroso Giurisce un parlatico e bezzera Giurisce un nobile figlio Giurisce il determinamento parlatico che crede Immagini una tempesta Immagini una tempesta Giurisce un nobile figlio Giurisce un nobile figlio stesso momento concedere a un umile credente alla mente una polla di cinque mille numero 20 Gesù commina sull'acqua ripeto questo che questo è conosce quasi tutto questo mondo Gesù camminà sulla acqua giurisce una ricca donna figlia da voci e lo uidito da un uomo sordo e muto alimenta una polla di quattro mille concedere le oci da un uomo abbezzahira ripristino senso per un ragazzo irrationale la moneta in bocca a un pesce concedere alle oci di un cieco nato ripeto questo concedere alle oci di un cieco cieco nato giurasse un donna con una informita giurasse un uomo con un idropico numero 30 ripeto risuscita lazaro dalla morte dopo quattro giorni ripeto questo risuscita lazaro non morto dopo quattro giorni la nuova eterna convenzione ripeto questo la nuova eterna convenzione si si ricoglie macco oreccio riservazione ripeto riservazione la provo della revisione a desi dei seppoli provo a dubitare della revisione a santo tommaso appare in pubblico primo cinquecenti quasi tutta la città pente costa la grande commissione assenzione provo di ottenere il paradiso ripeto numero 40 assenzione provo di ottenere il paradiso il servizio consiste nel credo degli apostoli la ave maria e la pregiere di contenzione che ci rende degni dei camioni nella fede di lo divinito di dio e cristo sale in paradiso e benediciamo un po' pane quindi noi diciamo lo comando di cristo questo è mio corpo che cosa è realmente cristo che ci dice che egli è compagni considerato il personale di vita simbola commento perché quando si è in paradiso il corpo è corpo come è entrato il paradiso corporale allora cristo benedice l'occupo divino e proclamò questo è il mio sangue nella nuova e eterna convenzione che cosa è realmente cristo che ci dice che egli è simbolicamente utilizzando il vino rosso a simbolizzare il sangue che sostenga la vostra vita tuttavia rendersi quanto quando si è in paradiso si avrà un sistema eterno che sostenga la vita eterna pari a questo pregatore che è la vita eterna della spirito divino di dio e cristo ora siamo pronti per camionare con dio e con cristo dio io prego io sono demo nella fede della divinità di dio e cristo dopo la camionare ci prendiamo un momento di silenzio per onorare e pregare per la famiglia i parenti e gli amici con corvo potremmo cantare un ino o canzone religioso in particolare ave maria io prego lo pregere del signor e canta l'ultima stanza essenzialmente obbligazionale celebrazione comune con dio e con cristo è completo grazie 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 grazie